In 200 armati di sacchi, guanti, olio di gomito per ripulire gli argini di tutta l'asta dell'Arno, compresi affluenti come la sieve, l'ombrone pistoiese e le aree di particolare pregio ambientale, sono gli ospiti dei centri di accoglienza toscani, protagonisti da fine giugno dell'edizione 2017 del progetto Migranti Bonificatori, presentato in regione a Firenze, coinvolti i quattro consorzi di bonifica del bacino dell'Arno, coordinati dal consorzio 3 Mediovaldarno, forte dell'esperienza dell'anno scorso quando fu raccolta una tonnellata di rifiuti e ora già si pensa ad altre aree dove il progetto potrebbe essere esteso. Mi vengono in mente percorsi storici che hanno sempre più bisogno di una manutenzione, di una pulizia, mi viene in mente la francigena, mi vengono in mente le tante piste ciclabili che abbiamo sul nostro territorio regionale. I migranti che si alterneranno nell'attività volontaria lungo gli argini dell'Arno provengono in gran parte dall'Africa subsahariana e dall'Asia e per loro è previsto un corso di formazione per imparare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di raccolta differenziata con una novità rispetto alla passata edizione. In questa esperienza per la prima volta chi ha fatto l'anno scorso il migrante bonificatore farà da tutor per quelli che lo seguiranno. Questa è una cosa importante che speriamo ci consegni un futuro nel quale alcuni di questi ragazzi possono avere sviluppi occupazionali nel settore dei nostri lavori. E ora c'è già chi si prepara a fare il tutor ripensando a quanto imparato nella prima edizione del progetto. Nel mio paese, in Nigeria, non avevo la possibilità di lavorare lungo i fiumi come qui. Dopo aver incontrato questa organizzazione ho imparato molte cose, quindi è stata una cosa molto positiva. I migranti bonificatori saranno al lavoro sugli argini dell'Arno per tutta l'estate fino ad ottobre. La festa è finita e spenti i motori, è il momento di tirare le somme sull'evento motociclistico più atteso del Mugello. È stato infatti un moto mondiale dal record, quella andata in scena a Scarperia, questo weekend, a cominciare dal boom di presenze, oltre 164.000 spettatori in tre giorni, l'8% in più rispetto allo scorso anno. Pare a un incremento di 12.000 biglietti venduti, complice anche alla festività del 2 giugno, che ha permesso ai tanti appassionati di raggiungere l'autodromo già nella giornata di venerdì. E di fatti i tifosi sono arrivati in massa da tutta Europa, ma anche dal continente asiatico e dagli Stati Uniti. Insomma, una grande carovana di colori, bandieri e entusiasmo che ha dipinto il circuito mugellano. E anche se Rossi non ha regalato il podio al suo pubblico, l'intero autodromo ha comunque festeggiato la vittoria tricolore con Andrea Dovizioso, Andrea Migno e Mattia Pasini, imperatori del Gran Premio d'Italia. Un Mugello vivo, un Mugello, che ha regalato al suo grande pubblico tante emozioni in pista, ma anche tanto divertimento al di fuori del circuito, con lo straordinario successo del tradizionale appuntamento Mugello Speed Sound, la kermesse musicale e culturale che ha portato la festa del Moto Mondiale direttamente tra le vie del centro storico di Scarperia, perché il Mugello si vive di giorno ma anche di notte, come hanno ripetuto gli organizzatori, lanciando ormai utilizzato tormentone, al Mugello non si dorme. Calato il sipario sulla MotoGP, il Mugello ha dovuto assistere però alla prova più dura, quella della gestione del traffico in uscita, con il grande serpentone di auto e moto in deflusso dal circuito. Ancora questa mattina, la presenza della carovana di camper e camion diretti verso il casello autostradale di Barberino ha provocato le vie rallentamenti del traffico. Guardando gli ultimi dati sul lavoro, finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. Non tutto va come dovrebbe, ma finalmente il segno più c'è anche laddove non lo si vedeva da tempo, nell'occupazione. Gli ultimi dati istati infatti fotografano una realtà in cui i disoccupati scendono all'11,1% con un calo di oltre mezzo punto in un anno, toccando il minimo dal 2012. A festeggiare in modo particolare sono gli over 50, che crescono di 362 mila unità, ma anche la fascia giovanile migliora, con i disoccupati che scendono al 34%. I dati a cascata si riflettono su vari comparti dell'economia e anche la Toscana ne ha risentito positivamente. Nel caso specifico degli artigiani, ad esempio l'osservatorio della CNA Fiorentina ha messo in luce come nel mese di aprile l'occupazione sia cresciuta nell'area metropolitana dell'1,5% su base mensile e del 3% su base annua. Da dicembre 2014, cioè da quando è in vigore del Jobs Act, l'occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole, è salita complessivamente di oltre 8 punti percentuali, soprattutto grazie ai processi di stabilizzazione e minori licenziamenti. Ad oggi i contratti a tempo indeterminato nelle imprese artigiane rappresentano quasi il 70% del totale. In particolare, da inizio anno ad oggi, i settori che più hanno trainato la crescita sono stati quelli della meccanica, del tessi, l'abbigliamento e calzature e quello del settore del turismo, commercio e pubblici esercizi. Si tratta di numeri in assoluto non altissimi ma importanti, ha detto il presidente di CNA Metropolitana Firenze, Giacomo Cioni, una sorta di scommessa ottimista sul futuro, cui ha contribuito l'avvio degli incentivi per l'occupazione degli Unores e iscritti al programma Garanzia Giovani. Le nostre imprese stanno rispondendo positivamente, ha concluso. Chiediamo però che vengano sostenute anche dalla politica più di quanto lo siano attualmente.